Ieri mattina è stato scoperto il corpo senza vita di Riccardo Fadda, un giovane di 23 anni, nel suo letto a Calcinaia. La sua famiglia è distrutta dal dolore, mentre la comunità è sconvolta dalla notizia. Riccardo, residente in via Santo Baldesca, era un volto conosciuto nel mondo del basket locale, prima come giocatore, poi come istruttore mini-basket, presso il palazzetto dello sport locale. Nonostante i suoi impegni di studio, aveva mantenuto il legame con il suo sport preferito come ufficiale di gara per il GAP Pisa. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile. Il corpo è stato scoperto dai suoi cari e successivamente affidato alle autorità mediche legali per accertamenti. Le ipotesi sulla causa della morte spaziano dal malore allo shock anafilattico.